Rimane consentita l'attivazione o la prosecuzione dei tirocini in presenza nell'ambito delle aziende le cui attività sono tra quelle autorizzate ad essere svolte. Lo precisa il servizio lavoro della regione Abruzzo alla luce delle ultime ordinanze, la numero 3 e la numero 4, del presidente della giunta regionale che ha introdotto la zona rossa per alcuni comuni abruzzesi. Gli ultimi provvedimenti governativi infatti non hanno apportato specifiche e differenti misuritali da impedire lo svolgimento dei tirocini extracurriculari in presenza che in Abruzzo si svolgono nel rispetto delle ordinanze regionali numero 101 del 9 novembre 2020 e 103 del 17 novembre 2020 e questo indifferentemente dal fatto che le aziende si trovino nei territori identificati come zona gialla o zona arancione o zona rossa sempre nella fascia oraria dalle 5 alle 22. La regione si riserva in base all'evoluzione dello scenario epidemico regionale di rimodulare le misure in materia di tirocini extracurriculari.